Senta Rosalia Non parliamo del Palermo perché il miracolo è di andare a Rosalia a fare Che ci fa lavorare a tutti, a noi commercianti Che il mio compagno troverebbe un lavoro e saperebbe una gelateria Allora il miracolo che chiedere a Senta Rosalia è di farci vivere un po' meglio per tutti Darci la salute, questa è la prima cosa e poi quello che viene, viene, prima la salute Salute, la salute Diamo la pace delle tasse noi Si spera di malattie per tutti i palermitani e tutti i ragazzi del mondo, le persone del mondo Santa Rosalia può influire con chi di competenza per poterci dare la salute Il miracolo scaccia anticrisi Che cos'è questo intervista? Che è il festino di Santa Rosalia Ah, il festino è una cosa meravigliosa Scaccia anticrisi Che sarebbe di lavorare Io chissà ci dico Che giustamente Santa Rosalia ha gratuito il Palaro Signore per dirci per poterci pagare Sempre nei da a passare Salve, salve, salve Ciao, ciao